Ciao ragazzi e benvenuti a questa video lezione sulla divisibilità. Oggi parleremo dei criteri di divisibilità, un argomento che viene già trattato normalmente alla scuola primaria ma che è molto importante ripassare anche alla scuola media perché come vedremo conoscerli bene ci permetterà di svolgere più rapidamente molti calcoli. Prima di cominciare dobbiamo però ricordarci che un numero naturale si dice divisibile per un altro numero naturale quando la loro divisione non da resto. In realtà possiamo utilizzare anche delle altre definizioni che è bene conoscere perché poi anche i libri di testo e gli esercizi le riportano. Allora si può anche dire che questo numero divisibile per un altro appartiene alla sua tabellina o ancora è un suo multiplo. Vediamo subito un esempio e consideriamo i numeri 24 e 6. Allora possiamo dire senz'altro che 24 è divisibile per 6 ma vedete che è anche vero che 24 è un multiplo di 6 e si può anche dire che 24 appartiene alla tabellina del 6. Allora cominciamo con la divisibilità per 2 e per fare questo andiamo ad osservare la tabellina del 2. Allora la ricordiamo bene 2 per 1 2 2 per 2 4 e così via. Vedete che tutti i numeri che otteniamo 2 4 6 8 sono tutti divisibili per 2 ma come abbiamo visto prima possiamo anche dire che 2 4 6 e 8 e 10 sono multipli di 2 o come proprio abbiamo definito all'inizio. All'inizio appartengono alla tabellina del 2. Quello che ci dobbiamo però chiedere è cosa hanno in comune questi numeri e che cosa hanno in comune ragazzi? Hanno in comune il fatto di essere pari. Quindi nel caso della divisibilità per 2 se giocassimo a pari o dispari vincerebbero solo i numeri pari. Vediamo adesso la divisibilità per 3. Allora partiamo osservando alcuni numeri multipli di 3 e proviamo a sommare le loro cifre. Allora ad esempio 18. 18 sappiamo essere divisibile per 3 perché appartiene alla tabellina del 3. Se sommiamo le sue cifre 1 più 8 è uguale a 9. Anche 24 appartiene alla tabellina del 3 e se sommiamo le sue cifre 2 più 4 è uguale a 6. 33 3 più 3 uguale a 6 e ancora 39 3 più 9 3 più 9 uguale a 12. Anche in questo caso dobbiamo chiederci questi numeri che cos'hanno in comune. Questi numeri ragazzi pur derivando dalla somma delle cifre sono ancora tutti divisibili per 3. Quindi il metodo della somma delle cifre è estremamente interessante per individuare i numeri divisibili per 3 perché basta effettuare la somma e se io trovo un numero che appartiene ancora alla tabellina del 3 ecco che allora posso affermare che è divisibile per 3. La divisibilità per 6 la vediamo proprio a questo punto anche se non andiamo in ordine nella sequenza dei numeri perché è strettamente legata alle due divisibilità precedenti. Infatti quando un numero è contemporaneamente cioè allo stesso tempo sia divisibile per 2 sia divisibile per 3 allora possiamo dire che è divisibile per 6. Vediamo un esempio e consideriamo di nuovo il numero 24. Allora il numero 24 è pari chiaramente ma se io vado a sommare le sue cifre trovo che 2 più 4 è uguale a 6 quindi è anche divisibile per 3 essendo sia pari sia divisibile per 3 ecco che allora posso dire che è divisibile per 6. La divisibilità per 9 invece segue le stesse regole della divisibilità per 3 vediamo in che modo allora osserviamo di nuovo alcuni multipli di 9 e proviamo analogamente a quanto fatto prima a sommare le loro cifre allora prendiamo 27 che è un multiplo di 9 e divisibile per 9 appartiene alla tabellina del 9. Sommo le sue cifre e trovo che 2 più 7 è uguale a 9. Prendiamo 81 sempre divisibile per 9. 8 più 1 è uguale a 9. Ma se andiamo a prendere un numero molto più grande come ad esempio 171 e sommiamo nuovamente le sue cifre troviamo ancora che 1 più 7 più 1 è uguale a 9. Ora ragazzi non è che trovo sempre 9 perché se guardiamo ancora un esempio tipo 981 9 più 8 più 1 fa 18 ma anche in questo caso il numero che ottengo ha sempre una caratteristica in comune cioè il numero che ottengo sommando le cifre è sempre appartenente alla tabellina del 9 trovo cioè numeri ancora divisibili per 9. Anche anche in questo caso sommare le cifre mi permette di individuare immediatamente questa divisibilità perché se io sommo le cifre e trovo un numero che è un multiplo di 9 posso affermare che questo numero è divisibile per 9 ma ovviamente è anche divisibile per 3. Per quanto riguarda invece la divisibilità per 5 ricorriamo di nuovo alla tabellina e quindi andiamo a vedere la tabellina del 5. 5 per 1 5, 5 per 2 10 e così via. Allora vedete ragazzi che se io mi fermo ad osservare tutti i numeri che ottengo questi sono chiaramente tutti i multipli di 5 ma anche questi hanno tutti qualche cosa in comune e vediamo bene di che cosa si tratta. Si tratta del fatto che la cifra delle unità che vedete qui rappresentata è sempre o 0 o 5 quindi io posso osservare un numero e se questo numero termina quindi ha come ultima cifra cioè quella delle unità 0 o 5 bene questo numero sarà sempre divisibile per 5. Vediamo adesso la divisibilità per 10. Allora partiamo da alcuni multipli di 10, 10, 20, 30, 40 ma possiamo salire anche a numeri più grandi tipo 100, 200, 300 o 1000, 2000, 10.000. Bene ragazzi anche in questo caso vedete ve l'ho già messo in evidenza in giallo questi numeri sono tutti divisibili per 10 ma hanno in comune il fatto di avere sempre la cifra delle unità uguali a 0. Quindi quando un numero termina con la cifra 0 posso affermare che è divisibile per 10. Osserviamo però anche questi numeri più grandi che ho scritto nella seconda e nella terza fila. Vedete che in questo caso abbiamo due cifre 0 anche in questo anche in questo 100, 200, 300. Bene quando un numero termina con due cifre uguali a 0 è divisibile per 100, quando un numero termina con tre cifre uguali a 0 è divisibile per 1000. Chiaramente un numero divisibile per 1000 lo sarà anche per 100 e lo sarà anche per 10. Bene ragazzi siamo arrivati alla divisibilità per 4 che è probabilmente la più complessa di quelle che vi propongo in questa video lezione. Per analizzarla dobbiamo partire dalla tabellina del 4 e anche da multipli più grandi però li osserviamo organizzati in colonne proprio per cogliere alcuni aspetti interessanti. Allora come potete vedere nelle prime due colonne trovate la tabellina del 4. Allora se partiamo vediamo che abbiamo 4 per 1 4, 4 per 2 8, poi 12, 16, 20 e poi si prosegue con 24, 28, 32, 36, 40. Voi potete osservare ragazzi che è come se dopo il 20 ci fosse una sorta di ripetizione perché 24 io lo posso vedere come 20 più 4, 28 come 20 più 8, 32 come 30 più 12, 36 come 20 più 16 e così via. Ora non devo però cadere in inganno perché non posso affermare serenamente che tutte le volte in cui un numero finisce per 4 è divisibile per 4 o tutte le volte in cui termina con 8 è divisibile con 8 perché sapete bene che ad esempio 14 non è divisibile per 4 e tantomeno lo è 18. Però se andiamo ancora avanti nei multipli di 4 troviamo vedete che dopo il 40 quindi al termine diciamo di quella che viene considerata la tabellina del 4 andando avanti a farne i multipli ritroviamo di nuovo la stessa regola. Vedete 44 che sarebbe 40 più 4, 48, 40 più 8, 40 più 12, 40 più 16 e così via. Allora questo ci permette di proseguire e di andare ad analizzare anche i multipli più grandi. Passiamo guardate direttamente all'ultima colonna in cui a partire dal 120 ricostruiamo i multipli di 4 e vedete che ritroviamo 124, 128, 132, 136, 140 e vedete bene ragazzi che ritrovo nelle ultime due cifre esattamente questa parte della tabellina del 4. Un altro aspetto da ricordare sono ad esempio i multipli di 100. Il numero 100 è divisibile per 4 così come lo saranno tutti i suoi multipli 200, 300, 400 e così via. Allora questo ci permette di individuare una regola e cioè di riconoscere questi numeri divisibili per 4. Non è così semplice abbiamo visto perché posso cadere in errore ma posso utilizzare una regola da ricordare ovvero che vado ad osservare le ultime due cifre del numero che sto considerando e se le ultime due cifre sono divisibili per 4 allora posso affermare che il numero è divisibile per 4. L'altro caso è se le due cifre sono uguali a 00 come nel caso di 100, 200, 300 e così via. Bene ragazzi con questo terminiamo il percorso sulle divisibilità, le regole della divisibilità potremo analizzarne anche altre la divisibilità per 7, per 11 e così via ma io ritengo che in questo caso probabilmente ricordare la regola è più difficile che non utilizzare il metodo dei multipli e andare effettivamente a verificare la divisibilità per questi numeri. Per cui con questo è tutto io vi saluto e arrivederci alla prossima video lezione sulla divisibilità. Ciao!